Va bene, aggiungo resistenza, un po'. E rallento. Questa è bellissima, eh? 90, vedanate il minuto. Sopra spicca. Siamo decimati dall'allerta meteo. Hanno avuto tutti paura del temporale. Mantengo. Trasciscali, eh? Metti lì, prima fila. 4, 3, 2, 1, arrivo. Un goccio. 90, pedalate il minuto. Sempre. Palle rilassate. Cambiamo bene le gambe. Sì, sì, Ale, ci chiamo dopo, stai tranquillo. Francesca, ti dico velocemente cosa andremo a fare. Bene. Scaldiamo. Siamo al settimo minuto. Quindi, faremo 3 minuti 120 pedalate al minuto, 1 minuto 60 pedalate al minuto. Quando faremo le 120 pedalate al minuto, la frequenza cardiaca si alzerà da sola. e recupereremo aggiungendo resistenza e alzandoci fuori stella, ok? Visto che così sarebbe noioso, ho pensato il secondo minuto di mettere un po' di on e off. Quindi aumento ancora 5 secondi e poi diminuisco. D'accordo? Dei, dai! Che è un'abbascizzata! Ma cosa c'igola, Alessandro? Le ginocchia. Abbiamo olio. Lo vuoi? Sì, io? Ma no! Io sono nella provincia di Ovarà. È qui, eh! Un minutino! Sì, siamo quasi! Manca Fate un po' da casa chiedono pronti? ferite? pronti per forza? ok tolgo resistenza e vado aumento la velocità prendo le 120 pedalate al minuto in verità ho rubato qualche secondo perché questa sera mi ero attrezzata col doppio cellulare per gli scarti ma vedo che il grafico è giusto quindi di pochi secondi quindi si va da adesso ricordatevi sono tre minuti iniziamo ritmo con la gamba destra dopo gli on off lo teniamo con la sinistra d'accordo? quindi un minuto gamba destra forza faccio tirare le gambette perché a noi che siamo vecchi non ce lo dice nessuno a parte io no ve lo dico però veloci veloci anche la mia ok on off 5 secondi aumento aumento e riprendo il ritmo aumento e riprendo il ritmo aumento e riprendo il ritmo via e riprendo via ritmo via Ritmo Gamba Sinistra Switch Da qui 120 pederati al minuto Un minuto Mantengo Come va? Abbiamo L'Alessandro Al pit stop È come il Piero Non c'è il Piero quindi Mantengo Mantengo 10 secondi Ok Chiudo Doppio il tempo E In piedi Dunque Fabio dice che c'è poca musica Parlate ora o mai più In sala Volete un pochettino di più di musica? Un minutino Se volete vado a alzare Al massimo Io lo dico l'Ali DJ Ok Ok Mi siedo È Mi giungano È il volume Ok Ok A posto Posto Bene Grazie Ale DJ Ora Chiamma Sinistra Un minuto Veloci Veloci 120 Pedalato al minuto Dai che ho un po' di pianura Va sempre bene Ok 10 secondi E poi partiamo con gli on off Bia Aumento Minto Bia Aumento Aumento Bia 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 Aumento Aumento Bia 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 via stop sinistra riprende il ritmo centenenti, troverate il minuto grazie Ale ti auguro buon lavoro buona studata dai che ci siamo quasi manca pochissimo al recupero come va? benissimo no meno male che il marco vieni su di qui ok, chiudo rallento e si recupera come fa l'Alessandro alzandoci in piedi ricordatevi di bere e asciugare il sudore tutto bene si tocca già tocca già torno resistenza destra e vado non parla non parla non parla perché non era lì non è lì non è lì comunque si stanno i nostri on off aumento non parla via stop via stop via stop via stop via stop l'ultimo, via stop cambio quinto sinistra mantengo il rismo con la sinistra non rallento la prossima volta però non mi faccio più fregare perché siamo partiti che eravamo a pari adesso siamo già indietro pazienza la prossima volta uso il mio grafico Barbara sei rossa fa caldo? ma sei rossa perché è caldo o sei rossa perché non mi faccio cosa picca? ok chiudo bevo bevo a più questo d'ore e salgo walk non 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 lo so solo 10 ne mancano come no? sì ne abbiamo fatto 3 ma è vero è vero volevo farvene fare una in più sono talmente tanto belle mi siedo tra l'altro ti ho fatto recuperarvi più ma solo perché c'è questa qui vado sinistra ritmo questa la lupiamo è talmente bella buon tango pronti i coglioni oppe via via stop stop via stop via stop Aumento Stop L'ultimo Via E stop Due torti Inizia Dalla sinistra Alla destra E mantengo Il ritmo Vai vai Marco Non rallento E mantengo 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 Ancora un po' Resisto Ok Chiudo Chiudo Come va? Benissimo Vedi in uno Orietta Vedi in più Ale Valale È stato fermo Anche questa è bellissima No Mauri È bellissima Chiama Sì adesso chiama Sicuramente Apro E vado E vado Non è un minuto Qui la stanghetta Dava un minuto Io vado a stanghette Ale Vado a stanghette io E tra l'altro Stanghette Che sono indietro nel tempo Ma fa niente Vado Vado Troppo Abbassate del 5% Quindi diventa 85% Fattibilissima Chi switcha Pronti Via Stop Via 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 l'ultimo via e poi giugno riprendo il ritmo sinistra 120 per minuto zona 5 90% oppure 5% o meno quindi 85 quarto borsa poco poco ancora ok rallento aggiungo le notizie asciugo il sudore bevo recumelo e salgo e si ragazzi avevamo smesso a mazzo in formissima cosa dobbiamo fare? possiamo mica andare indietro? io vi devo portare molto avanti adesso l'anno prossimo aumentiamo il tempo non potendo più aumentare l'intensità andiamo ad aumentare 10 minuti di recupero di lavoro caspita ci siamo persi aumenta la velocità ora come possiamo fare per ovviare a questa mia distrazione semplicemente fare 2 minuti di on off così aumentiamo l'intensità e diminuiamo il tempo pronti? via stop via ma no a scuola stop no dalle gennaio si preoccupano già dalla prossima stagione via da settembre via settembre 2022 e stop mi porto avanti via stop via 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 2 minuti eh stop via Via! Stoppe! Via! Stoppe! Via! Via! Stoppe! Mauri! Peccato, vero? Stoppe! It's the reason that I love you It's the reason that I care Why there is no one above you Why no one else can take me there It's the birth of a moment D'accordo, tutto bene, oggi niente sorpresa, no Ale, lasciamo andare le nostre gammette, bene, siete arrivati in fondo, bravissimi, Marco sei soddisfatto? Fa caldo, la prossima volta metti di là, così apri, bene, bene, grazie a tutti voi, anche da casa sono arrivati tutti, erano un po', erano 176 di mezzo a loro, e sono arrivati tutti, così mi pare, non so se hanno fatto fatica come voi, non so, chiedo, ma quanta fatica avete fatto da casa? Quanta questa fatica dai ragazzi in palestra? O di meno? O di più? Ok, Barbara dice, fiate onesti, bene, si racchenta, c'è anche il Mario, povero Mario, il Mario odia la velocità, e a Cristo che è il Celestia da per bene e domani l'ha pronta, forza Mario, fatti coraggio, e dopo vediamo che dicono da 10 a 10, fatica da 10 a 10, e spiro a me, tu Barbara, ti piace a pezzo, tiro a tiro, e scelto, tra l'altro io ho avuto un occhio su tutti i messaggi, non rispondo ai saluti, però li leggo tutti, e pieni sui pedali, gamba, sempre piegata, sempre piegata, e dentro, pesa, giallone verso terra, mezzo giro e cambio, qualcuno, in particolare Leonardo, conferma quello che dico sempre io, che è stata una passeggiata, alla fine è stata tutta pianura, più passeggiata di così, scendo, stacco i pedali, scendo dalla bike, anche la musica ci ha detto, è ora di andare, su, tallone al gluteo, e ginocchio al petto, scendo, qui, ginocchio al petto, scendo, respirone ultimo, e fuori tutto giù, bravissimi! Grazie a tutti!